Il vetro trasparente, con la ragione per la tetra, con la mura del forno, che è pari a 1200 gradi. Questo è un'ottima tecnica di soffiatura, ma è stato creato un piccolo vaso. Questo è un'ottima tecnica di soffiatura, la tecnica di soffiatura, la tecnica di soffiatura, la tecnica di soffiatura.